A facoltà. Onorevole Buonanno ora. Un intervento un po' in controtendenza rispetto agli altri, perché non credo che ci siano molti europei a cui frega molto il Burundi. Io penso che gli europei chiedono all'Europa di fare le cose che servono per gli europei. Quando si parla di gente che muore nel Burundi, benissimo, mi dispiace, come dispiacerà molti europei, ma perché non cominciamo a parlare di tutti i suicidi che ci sono in Europa, perché ci sono le imprese che non funzionano, perché c'è un'economia che non va bene, perché ci sono dei governi che non vanno bene, perché ci sono un sacco di clandestine che arrivano in Europa e non riusciamo a fare niente. Perché non pensiamo prima a quelli che non riusciamo a salvare nel mar Mediterraneo? Noi dobbiamo pensare al Burundi, come abbiamo pensato ai Masai, come abbiamo pensato ai clandestini della Birmania e non pensiamo ai clandestini dell'Europa. Ma non vi vergognate di parlare di cose che non hanno senso rispetto a quello che ci chiedono gli europei, a quello che ci chiedono i giovani, gli anziani, le imprese. Ma che cosa pensiamo al Burundi? Noi siamo qua a parlare del Burundi e non pensiamo all'Europa, a quello che serve al nostro futuro. Ma vi vergognate sì o no?